riprendiamo qui dal centro sportivo maracanà secondo tempo della sfida fra porto ed inter giorgio cosa ne pensi la prima frazione terminata 6-3 a favore dei portoghesi e adesso il possesso è per l'inter un primo tempo giando sicuramente dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto dove però il porto è stato capace di gestire al meglio le occasioni create tanto torna a manovrare offensivamente l'inter il porto scusate anzi sono stato profetico perché il possesso è tornato all'inter con vincenzo lombardi che qui prova a suggerire per la dinolfi l'ottimo break di nappi ancora palla a lombardi che prova a suggerire perché a cavale esce bene silvestri da quest'altro lato puntualmente ricacciati indietro i tentativi offensivi dell'inter la matrice portoghese e pressing alto e ripartenze rapide in attacco tanto rimessa laterale a favore del porto nappi per al fieri ancora al fieri spalla la porta si gira bene fa sportellate con caccavale guadagna un calcio d'angolo batte lo stesso al fieri sul secondo palo per nappi che spara sopra le stelle conclusione abbastanza imprecisa in questo caso si riparte da un rimessa di delia per nappi poi silvestri rugiero perde la sfera qui lombardi passaggio pasticciato quello ricevuto da sepe rimessa laterale qui guido sepe lezioso ma efficace con il suo tocco di tacco rugiero lascia rimbalzare la sfera arriva la chiamata arbitrale ai danni di adinolfi che professa la sua innocenza ma direttore di gara è irremovibile dovrebbe aver sanzionato il gioco pericoloso quindi punizione in seconda esattamente nappi sembra pronto al tiro ma la punizione in seconda quindi giunge al fieri al fieri si il tiro senza tante pretese tuttavia abbastanza pericolosa questa conclusione del numero 4 vincenzo nappi suggerimenti in profondità questi primi frangenti del secondo tempo sono abbastanza pasticciati giorgio si giando entrambe le squadre stanno cercando di impostare il proprio canovaccio tecnico il gioco però in questo in queste prime battute sembra essere lasciato all'inter il porto invece autore di ripartenze come in questo caso bella la magia la doppia magia di rugiero sfortunato però nella conclusione molto sfruttato nella conclusione il numero 8 bianco verde tono al fieri qui lascia palla l'inter che batte questa rimessa laterale lo scontro duro fra rugiero e guido sepe se ne produce un calcio di punizione per i nerazzurri palla ferma ridosso del cerchio di centrocampo il tocco per lombardi è la buona parata di delia un tiro non irresistibile ma velenoso quello prodotto da lombardi numero 5 sicuramente il migliore dei suoi qui arriva una battuta d'angolo abbastanza pasticciata riparte il porto silvestri in appi rugiero ottimi movimenti quelli del numero 4 che dà profondità dà respiro qui al fieri un po sulle gambe silvestri combatte in domito qui guido sepe troppo lezioso troppo leggero contro al fieri lo tira giù arriva una rimessa laterale a favore dell'inter nessuna irregolarità avvisata dal direttore di gara scontro duro fra silvestri e ed arriva anche un palo del porto su una deviazione fortunato il collettivo nero azzurri in questo caso che evita il tracollo grazie al montante giando partita che sta prendendo quota occasioni da una parte dall'altra anche l'inter l'inter sembra abbia messo tra virgolette la testa a posto vogliosa di fare gol speriamo che questa seconda frazione ci regali altre emozioni come in questo caso ennesimo gol del porto porto sette inter tre quattro gol di distanza adesso il divario inizia a assumere contorni abbastanza ampi e potrebbe essere dura recuperare e beh sicuramente adesso ci vuole mente corpo per i giocatori dell'inter devono mettercela tutta per raddrizzare questa partita che sembra veramente messa male si mettono anche i controlli palla abbastanza farraginosi intanto è subentrato sul terreno di gioco il numero tre gonippo palla per caccavale intanto ad inolfi prova la girata troppo tenue troppo dolce la sua conclusione ruggiero gestisce palla con entrambi i piedi suggerisce per silvestri ruggiero silvestri prova il suggerimento in profondità ma non se ne produce nulla di pericoloso per delia dovrebbe arrivare una rimessa laterale per l'inter battuta di prima intenzione da caccavale diretta in porta la becca silvestri rimessa laterale caccavale prova ancora testardamente il tiro non va delia per nappi porto sembra avere tutti gli interessi del caso a mantenere i ritmi bassi risultato acquisito e non ci sono particolari azioni pericolose fino a questo momento no le azioni le azioni pericolose per il porto sono si contano davvero sulla punta delle dita vediamo questa imbastita però caccavale tutto solo davanti alla porta la getta letteralmente al terra e riapre il match inter quattro porto ancora a sette però e beh qui caccavale di nervosismo di giustezza la butta dentro alle spalle di delia incolpevole nell'occasione veramente una conclusione cattiva una conclusione cattiva un'azione che lascia ben sperare a dinolfi desena caccavale questo il tris vincente per il gol precedente vedremo se sapranno ripetersi questi tre calcettisti di valore assoluto che stasera hanno giocato in modo non felice finora intanto il porta ancora avanti con nappi che prova a seminare avversari sul suo cammino arriva la spazzata in rimessa laterale che per poco non becca qualche testa della panchina nera azzurra nocerino spalla la porta ancora nocerino centralmente palla che è a pannaggio di caccavale si staccano in profondità ad inolfi da un lato e desena dall'altro ancora ad inolfi prova a servire caccavale guadagna una rimessa laterale desena carica il tiro ed arriva la conclusione del 7 a 5 desena quando c'entra lo specchio della porta è terribile assolutamente sì potenza e precisione come in questo caso desena coglie la porta coglie il gol che accorcia le distanze occhio al porto che sembra sfilacciarsi attenzione porto 7 inter a 5 una conclusione che ha letteralmente piegato le mani del portiere lusitano qui una buona azione ma arriva la spazzata puntuale per poco ad inolfi non si avventa sulla sfera manca la sua zampata stasera vediamo come si svilupperà questa partita desena esce in marcatura solfieri se ne produce una rimessa laterale time out 60 secondi di pausa sembra che stia decollando la seconda frazione di gara assolutamente sì adesso le distanze sono davvero brevi l'inter è ritornata a crederci adesso il porto deve gestire bene questi queste due lunghezze di vantaggio ruotando bene i suoi componenti e mandere mantenendo la calma e la lucidità vediamo i calciatori che stancamente guadagnano il terreno di gioco si riparte da una rimessa laterale a favore dell'inter partirà tutto dai piedi di anzi cambio battuta rimessa del porto nappi partita ancora lunghissima restano 15 minuti da giocare quando il punteggio è 7 5 suggerimento bellissimo per al fieri tuttavia non c'entra lo specchio della porta per poco la difesa dell'inter non combina la frittata esce di gran carriera comunque la compaggia è nera azzurra parte sulla fascia desena suggerimento per caccavale caccavale fa il possibile guadagna una rimessa laterale il numero 11 nera azzurro volenteroso desena ancora desena suggerisce per adinolfi prova il titolo di primissima intenzione il numero 9 nonché capitano nera azzurro tuttavia non c'entra lo specchio di porta riparte il porto nappi prove suggerimenti profondità per al fieri fieri fronteggiato efficacemente nappi suggerisce per ruggiero ancora ruggiero prende la linea di fondo non riesce nel suo intento adinolfi prova ad involarsi arriva una rimessa laterale a favore del porto prontamente ribattuto da un calcettista dell'inter nocerino per ruggiero suggerimento in profondità che non va a buon fine intanto c'è il secondo fumogeno e si prevedono multe per la società portoghese mentre arriva l'ottava segnatura del porto il numero 8 ruggiero porto 8 inter 5 fumogeno non poteva essere acceso in momento migliore questo fumogeno e si ha propiziato la rete del porto una rete nata dalla conclusione di ruggiero deviata e deviazione fatale per milo che si era dimostrato attento sulla conclusione doppio fischio arbitrale puntualissimo in questo caso punizione per l'inter mentre parte anche la sciarpata dei tifosi del porto a fissionados a corsi in massa mentre c'è la punizione per il porto per l'inter scusate i piedi terribili castigatori di desena il suggerimento perché a cavale non va a buon fine palla che termina alta e punteggio che resta favorevole al porto nell'ordine delle tre segnature nappi per silvestri gestiscono la sfera i calcettisti del porto con alfieri nocerino prova di involarsi suggerimento per nappi triangolazione pasticciata guadagna sfera l'inter un batti e ribatti qui c'è ad inolfi che preserva il possesso nero azzurro il pressing alto del porto non va a buon fine arriva una rimessa laterale però proprio a favore dei portoghesi qui un passaggio che mette in ambascia e delia ce l'ha sul destro è costretto al dribbling ai danni della di nolfi mentre nocerino fa sfuggire la palla ad inolfi contro delia ancora di nolfi non va a buon fine nappi fa correre silvestri che potrebbe suggerire per alfieri tende una linea di passaggio pulita spalle alla porta silvestri per nappi che poteva anche pensare al tiro becca un calcio rimessa laterale suggerimento di desena per caccavale impreciso nappi batti e ribatti che non va a buon fine palla ancora dell'inter caccavale desena possesso per il porto manca quel quid tecnico che potrebbe rendere le azioni offensive più concrete più continue che te ne pare giorgio si assolutamente giando però c'è da dire che i giocatori di entrambe le squadre provano a sopperire a quel pizzico di tecnica forse mancante ha la volontà alla caparbietà nel giocare bene nel cercare il compagno nella miglior posizione possibile e quindi di cercare la via della rete tanto torna in campo francesco lombardi con il numero 6 al posto di ad inolfi bocciatura per lui e probabilmente bocciatura per l'inter porto 9 inter 5 stavolta a metterla dentro dovrebbe essere stato silvestri ci sembra no a me sembra essere stato antonio al fieri che davanti al portiere tutto solo ha avuto la lucidità di giocare bene il pallone con una finta destro sinistro il portiere da una parte pallone dall'altra e quindi in rete delia per nocerino nappi suggerisce bene per al fieri e adesso gioca sul velluto la compagine portoghese porto 10 inter ferma 5 si sta dilagando del supporto a più voglia di giocare ha più voglia di deliziare i tifosi a corsi in massa qui al centro sportivo maracanà a sostenere i propri beniamini e migliore migliore festa non poteva esserci torna ad inolfi che non ne vuole sapere di sedersi in panchina mentre ci sono attimi di nervosismo fra le voci fuori anche lo speaker del maracanà invita a togliere gli striscioni mentre l'inter rischia l'imbarcata portiere milo prima stava allontanando la porta stava uscendo rabbiosamente calcio di punizione per l'inter con lombardi che prova a mantenere a galla i suoi numero 5 il suo sinistro la buonissima parata di delia ancora desena e in questo caso arriva la segnatura dell'inter porto 10 inter 6 con desena si qui è stato lesto è anche un po solo desena il centro dell'aria tutto facile per lui quindi inter che accorcia le distanze ma stiamo a vedere tanto Nappi prova a mettere ordine delia palla che ha pannaggio di milo qui delizioso e delizioso desena passaggio per lombardi non c'è continuità ancora lombardi palla al piede tenta il sinistro non va a buon fine anche il portiere altissimo per gestire palla e combina la frittata quasi quasi riesce a recuperare sfera milo lombardi in mezzo in mezzo a due ad inolfi fa la sponda francesco lombardi anche in questo caso il montante aveva bisogno di una inchiodata eh sì il sinistro di lombardi terrificante si spegne sul montante del palo un po' sfortunato all'inter in questa in questo frangente c'è bisogno che la dea bendata poggi un po' delle sue grazie sui giocatori dell'inter serve un colpo di fortuna intanto ci prova desena a portare la fortuna dalla sua porto dieci inter sette gol del numero sette desena sì questo gol giando è un po' nato da nulla pallone perso sulla tre quarti campo dello porto desena stato il più lesto di tutti a recuperare questo pallone e a insaccarlo intanto termina a terra ad inolfi i calciatori avversari protestano per un tocco di mano ma sappiamo che le sblocate sono un marchio di fabbrica della famiglia di nolfi a quanto sappiamo sì famiglia di nolfi che in questa europa league ha vissuto momenti di gioia ma anche momenti molto amari adesso per l'inter di marco di nolfi è quasi notte fonda ma aspettiamo il triplice fischio prima di settezzare la bella rete qui di marco di nolfi mi smentisce live e quindi partita che si sta riaprendo giando porto 10 inter 8 l'inter costretta questi recuperi disperati marco di nolfi ha piazzato la sua zampata mancano pochi giri di lancette al termine dell'incontro ma soprattutto ci sono solo due gol di distanza fra le due compagini adesso di lì a prova a velocizzare lontana la sfera arriva la arriva la rimessa laterale a favore dell'inter mentre il tifo è caldissimo desena no desena per lombardi lombardi fronteggiato da due uomini può ripartire in contropiede il porto il tocco non va a buon fine qui desena qui veramente l'agonismo sta prendendo il sopravvento sì oramai giocatori impegnati in questo fantastico match provano di tutto al fine di proteggere i propri obiettivi il porto di gestire questi due gol di vantaggio l'inter invece a cercare in qualsiasi maniera di recuperare questi due gol di svantaggi e quindi ritrovare un pareggio assai insperato tanto di nolfi guadagna un altro buon fallo qui la sponda interessante per lombardi non c'è continuità desena becca un altro calcione rimessa laterale ed arbitraggio puntuale anche in questo caso è stato chiamato il fallo cumulativo e da questo momento in poi saranno tir liberi per l'inter lombardi anche la traversa evidentemente ha bisogno di una legnata dalla distanza già lo sfortunato qui lombardi siccome del faro di questa inter sfortunatissimo ancora un legno per lui si sprecano gli aggettivi per la sfortuna di lombardi due contro uno in tanti intanto due contro uno e vincenzo anzi francesco lombardi segna il 9 a 10 dell'inter ha avuto il coraggio di segnare ha avuto il coraggio di tirare era tutto solo il suo compagno di squadra lui è riuscito a bucare la rete si immaginando da evidenziare ancora una palla persa da parte del porto che si lamenta con l'arbitro ma dovrebbe lamentarsi con con i propri effettivi all'interno del rettangolo di gioco ne ha approfittato francesco lombardi con numero 6 ha scagliato il sinistro un sinistro preciso mortale per salvadori delia che è stato lì a guardare incolpevole tanto prova ad affacciarsi pericolosamente in avanti il porto c'è una chiamata arbitrale del signor monda mentre delia viene a protestare con tuffano ancora a terra luggiero intanto le ottime voci degli aficionados manca poco è una bolgia qui al maracanà e sono solo le semifinali non osi immaginare i incontri finali qui il tiro di ruggero dall'illusione del gol gonfia la parte sbagliata della rete copre benissimo lo spazio francesco lombardi qui rimessa laterale per l'inter scambio fra i lombardi fra il numero 5 il numero 6 suggerimento lungo prova la zampata vincente ad inolfi la becca di naso ma fallo di fondo per il porto con alfieri che gestisse sfera per nocerino fronteggiato da un paio di avversari guadagna il possesso lombardi intanto vincenzo lombardi porta avanti palla cerca un alieno di passaggio si intestardisce termina a terra pulito l'intervento qui di alfieri silvestri prova il tiro non va a buon fine arriva il time out a spezzare la frenesia qualche attimo di pausa qualche attimo per riflettere per prendere fiato assolutamente giando serve ad entrambe le squadre questo momento di pausa di rilassamento per organizzarsi al meglio al fine di agguantare quello che è il sogno finale il sogno finale da raggiungere in questo momento il porto ce la sta mettendo tutta il risultato gli dà ragione ma attenzione all'inter che è una squadra che non muore mai I have a dream questo lo slogan di ogni singolo calcettista impiegato stasera una sfida ancora apertissima porto 10 inter 9 inter che può andare a tiro libero e sappiamo bene come calcettisti d'esperienza come anche capitana di nolfi sanno guadagnare sanno letteralmente rubare calci piazzati intanto riparte di furbizia l'inter anche questa chiamata è sanzionata perché tuffano fischia la ripresa del match ma gli effettivi del porto si stavano attardando quindi questa rete è da considerarsi nulla desena qui per lombardi ancora lombardi desena pensa al tiro in affrontato da nappi laterale rimessa laterale del porto intanto il signor tuffano usa bene i cartellini ammonisce desena c'è bisogno di ordine calma assolutamente sì giando i ragazzi impegnati sono forse carichi sono al agonisticamente parlando al massimo la posta in gioco è veramente altissima un gol separa le due compagini ci può stare intanto la chiamata puntuale questa dimonda che si prende una grande responsabilità ma è una chiamata giusta l'intervento in scivolata di vincenzo nappi punito con una punizione un calcio piazzato a due tutto pronto per la dinamite di desena mentre i fischi dei tifosi del porto il tiro di desena alto e c'è la stessa esultanza di un gol segnato per i portoghesi a dimostrazione giando che il porto ci tiene a questa competizione ci tiene alla finale e direi giando che il porto se l'è meritata questa finale però aspettiamo il triplice fischio prima di dare sentenza intanto è un autentico assedio questo dell'inter termina a terra ad inolfi non c'è più fase offensiva per i portoghesi qui il suggerimento fra nera azzurri la buona azione ed arriva una traversa che ha del clamoroso questa di francesco lombardi ci sembra mentre c'è un po' di parapiglia cos'è successo giorgio giando ancora sfortunato Vincenzo Lombardi sarà il suo terzo forse quarto legno personale questa questa sera poteva in qualche modo buttarla dentro ma è stato veramente sfortunato vediamo adesso se l'inter riuscirà a concentrarsi e a finalizzare questa occasione riavvolgiamo il nastro un po' di parapiglia sono stati letteralmente cacciati di peso dal campo Desena e Nappi riprende il gioco con Ruggero circondato dagli avversari ad inolfi tenta il tiro non va a buon fine piedi di Lombardi una Veronica ne ha due addosso termina a terra preso palla il suo diretto marcatore il tiro di Milo ancora Lombardi a terra tutti in avanti addirittura Milo a battere questa rimessa laterale sulla tre quarti le stiamo vedendo di tutti i colori quando c'è la coppa in palio non si guarda in faccia a nessuno e Vincenzo Lombardi ha avuto la peggio ancora fermo a terra Giando come si dice in guerra in amore non esistono regole forse anche nel calcio a 5 il calcio a 5 stasera è declinato sotto forma di vera autentica battaglia sportiva che ha già fatto un paio di vittime nello specifico Nappi e Desena che hanno abbandonato anzitempo il green del centro sportivo Maracanà è tutto pronto alla ripresa del gioco mentre Vincenzo Lombardi lo sfortunato numero 5 nero azzurro viene accompagnato all'esterno del rettangolo di gioco rimessa laterale con Milo Caccavale ed arriva il gol isperato il gol del 10 a 10 il tripudio dell'Inter con Caccavale che realizza una fantastica girata a rete Inter 10 Porto 10 una partita emozionante una partita infinita qui Caccavale ha estratto veramente il coniglio dal cilindro lasciato forse colpevolmente solo col sinistro ha baciato il palo col pallone ha baciato il palo che si è depositato in rete e proprio sulle ultime battute finali arriva il triplice fischio dell'arbitro 10 come le segnature di ambo le formazioni 10 come il voto che vorrei dare ad ambo le squadre fra nervosismo fra gesti di agonismo fra gesti tecnici si è prodotto una partita spettacolare Caccavale ha cacciato il tanto agognato con io dal cilindro all'ultimo secondo ed adesso saranno tempi supplementari per un'Europa League che regala sempre grandissime emozioni Assolutamente sì Gianno le due squadre impegnate questa sera sono un emblema del miglior calcio disponibile in questa Coppa in questa Europa League ci aspettiamo questi tempi supplementari sicuramente a grandi tinte agonistiche ma anche spettacolari Si mette la stanchezza si mette anche l'espulsione di un calcettista per ognuna delle due formazioni quindi diventa sempre più arduo a tenere la forma atletica adesso Si diventa difficile gestire la propria tenuta atletica e fisica e diventa anche difficile gestire certe situazioni dove la testa deve essere sgombra da pensieri tranquilla e concentrata al gioco L'ora è tarda il Fredo inizia a farsi sentire ma non qui al centro sportivo Maracana dove c'è il calore dei tifosi del porto dove c'è il calore di due squadre pronte a darsi battaglia anche per i tempi supplementari c'è l'abbraccio fra i due capitani un gesto bellissimo di sport stasera e Adinolfi si accomoda temporaneamente in panchina mentre Nocerino resta stacano vista in campo a dare il suo contributo a dare i suoi muscoli le sue ossa il suo cuore per questa sfida tutto pronto il signor Tufano si sincera nella presenza dei due portieri tempi supplementari Alfieri per Ruggero ricordiamo tempi supplementari 600 secondi 10 minuti rimonta fantastica rimonta d'antologia quella dell'Inter che meriterebbe gli applausi solo per quanto prodotto finora da 10-5 a 10-10 intanto Alfieri prova a manovrare addosso del cerchio di centrocampo trova una buona linea di passaggio in Silvestri che preferisce provare un passaggio non ci riesce caccavale si invola ma termina in un fallo di fondo laterale la palla per l'Inter intanto qui c'è la pressione alta dei calcettisti dell'Inter tuttavia rimessa laterale per i bianco-verdi stringono i denti qui l'anticipo pulito di Guido Sepe Ruggiero guadagna un fallo prezioso approfuso uno sforzo atletico non indifferente per essere nei supplementari il numero 8 che finora ha espresso buon gioco Sì Ruggiero è stata una delle marce in più per la squadra del Porto sempre presente in sostegno e in fase realizzativa ricordiamo le sue tre reti solamente in questo match quindi una prestazione di spessore Porto squadra fortemente emozionale già dalla scorsa stagione una squadra portoghese anche in questo una squadra che lo scorso anno ha vinto l'Europa Liga adesso prova a difendere con le unie con i denti il suo titolo e la sua possibilità di accedere in finale qui Alfieri prova ad involarsi viene affrontato il suggerimento ottimo per Silvestri linea di passaggio pulita fra Ruggiero Nocerino Nocerino si getta in avanti palla rimpallata che diventa pannaggio di Milo preferisce ragionare passando a Caccavale per Lombardi spalla alla porta affrontato da Silvestri arriva la chiamata arbitrale il fallo ricordiamo che i tempi supplementari non si azzera il conteggio dei falli quindi tiro libero per l'Inter Lombardi sul punto di battuta il suo sinistro l'ampia rincorsa nonostante i problemi fisici accusati poc'anzi sinistro arriva la parata di Delia ma la palla entra in porta Inter 11 Porto 10 la rimonta è più che completa Sì Giando doccia fredda per il Porto questo tiro libero realizzato dall'Inter anche in maniera fantoziana in quanto il disimpegno di Delia è stato sicuramente bello stilisticamente ma il pallone ha preso una traiettoria davvero beffarda che ha tradito il numero uno del Porto facendo sì che l'Inter mettesse la freccia per il sorpasso intanto prova ad affacciarsi in avanti il Porto prima c'era stata una buona proiezione in avanti dell'Inter Lombardi prova a fare del suo meglio contro Nocerino Alfieri qui l'ottimo suggerimento per il giro magari un po' lungo Caccavale esprime gli ultimi sforzi atletici in questo modo spedisce in rimessa laterale la palla tesa per Silvestri fa buona guardia Sepe Ruggero contro Caccavale non va a buon fine Nocerino prova a liberarsi di Lombardi scontro fisico fra i due arriva il fischio arbitrale ed è curioso notare come Lombardi si è entrato in campo solo per battere il tiro libero salvo poi essere sostituito nuovamente da Guido Sepe Ricorda un un particolare un particolare evento capitato anche in Serie A con Pirlo se non ricordo male giando forse un Vincenzo un Vincenzo Lombardi acciaccato dall'intervento precedente all'interno dei 50 minuti regolamentari fatto sa che è sicuramente stato decisivo il suo apporto intanto ormai si gioca in qualsiasi modo e il porto trova un altro coniglio dal cilindro Alfieri per l'11 ad 11 ebbè Antonio Alfieri è sicuramente il più esperto a trovare conigli a cacciare questi conigli dal cilindro qui da quasi linea quasi dalla lunetta dell'area di rigore ha scagliato questo destro potentissimo nell'angolino sul primo palo dove Milo ha potuto si mettere una mano ma non ha potuto niente sulla potenza della conclusione di Antonio Alfieri che trova un pareggio tanto bello quanto strepitoso c'era un film negli anni 80 The Never Ending Story la storia infinita penso che stiamo scrivendo il sequel anzi stiamo registrando il sequel stasera ebbè Giando meno male meno male così gli appassionati del trofeo Jack e degli amici del Maragana rimarranno sicuramente soddisfatti tanto caccavale più di nervosismo che d'altro prova il tiro duplice fischio arbitrale c'è l'ennesima pausa di questa partita infinita ormai l'ho detto in precedenza mi sembra telecamere spente dal mio collega Giorgio c'è bisogno della preparazione atletica anche per commentare determinate partite tante emozioni e c'è bisogno di tanto fiato tanto fiato Giando ma anche tanto cuore a riuscire a metabolizzare questi sorpassi contro sorpassi sfuriate contro l'arbitro sfuriate tra stessi compagni di squadra magari su un errore ma è questo lo spettacolo che volevamo questo è lo spettacolo che ci aspettavamo e questo è lo spettacolo che ci stanno donando Inter e Porto questa sera e ci vogliono anche i muscoli del nostro regista Isidoro Alberto Tardivo che ormai sposta incessantemente da 120 minuti la telecamera da un lato e dall'altro applausi per tutti applausi anche per Videonola che offre il trofeo Jack in esclusiva la Champions l'Europa League il campionato mentre qui Adinolfi prova ad illuminare il gioco Lombardi ha preso posto sul terreno di gioco Lombardi qui potrebbe arrivare il tiro e arriva la zampata di Marco Adinolfi per il 12-11 ennesima azione contestata ma il capitano piazza la doppietta ebbè il capitano qui è stato decisivo al posto giusto nel momento giusto un cioccolatino servito da Lombardi il numero 5 sempre decisivo nelle azioni dell'Inter Marco Adinolfi non poteva sbagliare Porto in sofferenza in panchina qui Milo sicurissimo nella presa Nocerino prova ad allontanare Lombardi la conclusione di sinistra e qui c'è la grande parata di Delia Adinolfi lotta indomito e guadagna un calcio d'angolo sembra essersi conservato tutte le energie per i supplementari Adinolfi ebbè pare proprio di sì è rimasto diciamo dormiente per la maggior parte del match salvo spuntare proprio nei momenti decisivi ultimi 240 secondi di questa sfida quando il calcio d'angolo si tramuta in rimessa laterale ultimi 4 minuti mentre Tufano chiama al rapporto i calciatori i calcettisti vuole gioco pulito qui arriva una combinazione accademica ma Adinolfi spreca malamente era un tiro da segnare qui Alfieri continua a snocciolare ottimo gioco mentre allarga per Silvestri il passaggio per Alfieri ancora Alfieri lungo linea per Silvestri che manca l'aggancio magari non parlano proprio lo stesso linguaggio tecnico i due ma entrambi ci mettono il cuore qui la spizzata di testa Lombardi è il primo ad avventarsi sulla sfera arriva anche la stanchezza Lombardi ancora manda fuori giri un paio d'avversari mentre ci sono anche i crampi per Silvestri calcio che Ruggiero regala a Lombardi ed arriva un altro tiro libero la palla pesa come un macigno soprattutto quando arriva la stanchezza come per Silvestri fermo a terra a causa dei crampi dagli spalti consigliano del potassio che male non fa oltre ad una bomboletta c'è anche l'intervento più che ghiaccio spray sembrava il deodorante per le ascelle continuano a dire dagli spalti la goliardia non manca anche se per il porto in questo momento si sta prospettando veramente un brutto finale un tiro libero di Lombardi vediamo il sinistro è per l'ennesima volta buca le mani buca letteralmente le mani di Delia mentre c'erano Nocerino e Dalfieri come le colonne d'Ercole ad assistere a questa conclusione Lombardi segna il 13-11 a favore del Inter Adinolfi in ripiegamento difensivo ricaccia in corner Alfieri il tocco ottimo la conclusione buona nessuno riesce ad avventarsi su questo tiro cross di Nocerino manca quel fattore psicologico adesso l'Inter sembra averne di più ebbe assolutamente questo gol ha sborsato gli entusiasmi del porto anche se pare che i giocatori non abbiano smesso di crederci vediamo se il loro cuore sarà portato oltre l'ostacolo Milo anche in questo caso si dimostra sicuro nella parata un disimpegno pasticciato ma arriva l'uscita difensiva puntuale Lombardi ancora Lombardi temporeggia Lombardi ha bisogno di un'enlenda passaggio la trova la triangolazione tuttavia non va a buon fine Nocerino serve per Delia costretto a spazzare alla bene meglio qui arriva il puntuale fischio arbitrale e ci sono le proteste l'arbitro ha contestato una spinta di Silvestri ai danni di Adinolfi punizione in seconda non cumulativa quindi non c'è la beffa oltre al danno Caccavale lunghissima più lontano possibile dalle parti di Milo mentre c'è Lombardi che palleggia serve ottimamente per Gonippo il tiro si spegne in calcio d'angolo resta avanti l'Inter prova a chiudere più lontano dalla propria porta possibile mentre Rugiro resta a sorvegliare la metà campo avversaria qui ennesima conclusione scolastica di Capitana Adinolfi e termina così questa prima semifinale di Europa League Inter 13 Porto 11 i portoghesi abbandonano il sogno Europa League abbandonano il proprio trofeo la propria possibilità di conferma in semifinale onore ai nero-azzurri assolutamente sì onore ai nero-azzurri erano partiti decisamente male ma hanno compiuto un vero e proprio miracolo sportivo in quanto hanno recuperato svariate reti di differenza fino al pareggio fino al sorpasso e poi fino al nuovo sorpasso in quanto la rete eccezionale di Alferi aveva stabilito il risultato parziale sull'11-11 ma l'Inter non muore mai è riuscita a portare a casa il risultato e l'accesso alla finale e c'è la braccia e c'è la gioia di Capitana Adinolfi c'è la gioia per l'Inter c'è la gioia per tutti ricordiamo il punteggio finale Inter 13 Porto 11 l'Inter è la prima finalista dell'Europa League andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti di questo match benvenuti al post partita di Porto Inter le telecamere di Videonola hanno raccolto le immagini di una partita strepitosa abbiamo con noi un trittico d'eccezione Caccavale migliore in campo il capitano dell'Inter Marco Adinolfi e il presidente dell'Inter Domenico Scafuri iniziamo con Caccavale Caccavale una partita entusiasmante mai banale dall'esito davvero mai scontato una partita che è iniziata subito in modo spumeggiante entrambe le squadre avevano voglia di dimostrare da subito di poter portare a casa la finale è stata una partita complessa perché tatticamente eravamo disposti entrambe le squadre in modo da coprirci ma in modo anche da poter ripartire nel caso si fosse creato il buco opportuno per inserirci abbiamo sfruttato al meglio le nostre potenzialità siamo andati in difficoltà abbiamo usato troppo e abbiamo pagato i vari errori commessi però nel secondo tempo abbiamo messo in campo un altro fattore che forse prescinde da quella che è la tecnica calcistica cioè il cuore la voglia di vincere la voglia di arrivare a quell'obiettivo con tutte le forze fisiche e non e ce l'abbiamo fatta tanto è vero che all'ultimo secondo forse io ho trovato il gol della domenica quello che ci ha permesso di accedere alla finale e non è stato merito solo mio ma del capitano del presidente di tutto lo staff che ci ha supportato e che ci ha comunque garantito da sempre il loro supporto adesso le sensazioni dopo una partita davvero incredibile quali sono? adesso c'è voglia di arrivare fino in fondo non c'è per nulla paura in noi non c'è alcun tipo di timore reverenziale nei confronti degli avversari che troveremo alla finale perché abbiamo voglia di dimostrare che questo gruppo Inter meritava questo epilogo per questo trofeo Jack perché il nostro capitano lo merita per lo sforzo profuso sia nell'organizzazione del torneo ma anche nell'organizzazione della propria squadra perché lui come noi ci mette il cuore e questa è una vittoria per lo sport e soprattutto per chi lavora giorno per giorno a questo parola quindi al capitano capitano una partita iniziata con toni particolarmente blandi da parte della tua squadra però c'è stata quella capabilità dopo di riuscire a rimontare un risultato forse sfavorevole agli occhi esterni ma non per voi è stata una partita strana in modo iniziata male poi l'abbiamo a tratti recuperata poi siamo finiti a un certo punto 10-5 mi sembra mi ricordo ancora che mancavano 5 minuti dalla fine il portiere voleva uscire addirittura da porta perché perché per lui era finita ci abbiamo detto ragazzi crediamoci ci ho creduto fino alla fine ma soprattutto non tanto per me per il presidente per Alberto Sepe per Caccavale che ci mette la faccia per Lazaro per i miei ragazzi che mi hanno sempre appoggiato fino adesso nonostante abbiamo fatto gli ultimi in classifica mi hanno dato sempre coraggio morale quindi non potevamo finirla là non sarebbe stato giusto ho detto una cosa a Carmine a 10 minuti dalla fine mi sembra la partita ce la fai vincere tu così è stata all'ultimo minuto la stena di lui ma non ci dimentichiamo le due perle di De Sena che ci ha portato anche due gol sotto Lombardi questa partita la voglio dedicare anche a lui che non ci sarà in finale perché è stato espulso un piccolo piccolo frendentimento però la dedicheremo anche a te la dedicheremo anche a te la dedico anche a Savore che ha fatto una partita impeccabile ragazzi del Porto una parola anche a Vincenzo Conippo che non c'è mai se ci sarà in finale non lo so però il gruppo è più forte il gruppo è più forte del singolo l'abbiamo dimostrato stasera Matteo ringrazio tutti quanti e ringrazio soprattutto questa vittoria speriamo la coppa già forse l'abbiamo vinta stasera non mi sono mai emozionato come stasera in tutto il trofeo Jack e questa partita la voglio dedicare soprattutto a Domenico Scafuro che mi ha accompagnato la parola anche a lui quindi parola al presidente nell'euforia ringrazio anche al mister sepe ringraziamento arrabbiare però stasera è venuto sul campo a differenza di altre volte un ringraziamento generale da parte del capitano a tutto lo staff quindi parola al presidente Scafuro presidente una vittoria quindi che a radici ben ben saldate nel terreno l'amicizia la coesione di squadra è sicuramente l'arma in più diciamo che è finita quasi da 10 minuti e io non ci credo ancora è stata un'impresa fatta dai miei ragazzi io mi sono messo contro tutti e tutto per portare questo per cercare di portare questo progetto avanti i miei ragazzi stasera hanno dato una prova impressionante tutti quanti dal primo all'ultimo voglio semplicemente dire una cosa a Matteo che è il fratello che è sempre ripetitivo io mi sono messo contro di lui contro il Borussia contro tutti a me non interessa stasera io la finale già l'ho vinta grazie a tutti bene con questa dichiarazione di tendi da parte del presidente Scafuro ringraziamo i componenti dell'Inter che guadagnano la finale un messaggio finale di Marco Adinolfi al fratello come al solito perché a volte un addio è solo un ciao ci vediamo in finale siamo qui con Salvatore Delia al termine della sfida persa e supplementare dal Porto contro l'Inter la semifinale di Europa League termina così la stagione del Porto termina la semifinale non c'è la possibilità di difendere il trofeo conquistato la scorsa stagione si ci tenevamo particolarmente a vincere questa partita proprio perché essendo detentori del titolo volevamo entrare proprio nella storia del trofeo Jack vincendo per due volte di seguito l'Europa League non ci siamo riusciti tra l'altro questa è la seconda volta che perdiamo contro la squadra di Gemella di Nolfi ai supplementari una partita secca è una maledizione anche la finale di Supercop l'abbiamo persa a 10 secondi alla fine dai rigori oggi va bene verso 2-0 però 12-10 però alla fine siamo sfortunati nei supplementari però noi non riusciamo a chiudere le partite anche nel campionato è sempre stato così abbiamo perso sempre a pochi minuti dalla fine manchiamo di concretezza finale alla conclusione della partita vai la partita ad un certo punto si è messa sul 10-5 a fuori del porto poi cosa è successo un blackout mentale inspiegabile è successo che è subentrata la stanchezza della squadra che ha corso molto nel primo tempo abbiamo cercato diciamo di difendere il risultato però alla fine loro erano più gasati correvano di più e ci hanno pareggiato tra l'altro un gol proprio allo scadire dove non ho potuto fare niente poi l'espulsione di Nappi tra l'altro che ci ha condizionato un po' psicologicamente adesso la testa è già alla prossima stagione da cosa ripartire eventualmente per il prossimo trofeo Jack sempre con gli stessi giocatori perché ormai questo è consolidato se andate a vedere la rosa della finale dello scorso anno eravamo quasi gli stessi di oggi ci manca Parisi che era proprio una pedina fondamentale mancata proprio alla seconda giornata di campionato perché con lui potevamo dirla ancora di più essendo un bravo difensore perfetto grazie un saluto finale non so un ultimo saluto da parte del Porto i ragazzi che hanno partecipato quest'anno nella rosa del Porto hanno dato il massimo anche se oggi qualcuno non è potuto venire e un in bocca al lupo a Mattia Di Nolfi e all'Inter per la finale che la vinca lui passiamo a tutti i nostri spessori